con questo video voglio parlare della pesca con il kayak la pesca il kayak porta a mio avviso dei vantaggi essenziali nella velocità di recupero del pesce ho visto che rispetto alla barca il pesce viene recuperato più velocemente e a mio avviso questo è il lato positivo di pescare con il kayak pesca caia comunque rispetto alla barca presenta i lati negativi che sono essenzialmente il tempo maggiore per raggiungere lo spot secondo la visuale del kayak sia una visuale solo a 180 gradi e non a 360 e poi per ultimo è la navigazione quando si sta pescando con la barca sia il motore elettrico e quindi senza dover riporre la canna si può avanzare o retrocedere senza bisogno di riporre la canna mentre con il kayak bisogna ogni volta riporre la canna e remare vogare per riacquistare la posizione nel caso che si sia perduta ecco queste sono piccole regole della pesca con il kayak buona visione del tutorial grazie a tutti 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 grazie a tutti